Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo finora i primi e gli unici che non hanno altro mezzo per muoversi, siamo finora i primi e gli unici che ne hanno realmente bisogno. Allora l'appello è di votare per le prossime elezioni amministrative a Verona, l'amministrazione Zanotto. Nei prossimi 5 anni, dopo 5 anni, nei prossimi 5 anni, per i prossimi 5 anni, 5 anni per altri 5 anni, questi 5 anni per altri 5 anni per 5 anni. La Casa di Libertà ha fatto poco, molto poco, quel poco che ha fatto l'ha fatto male. Il centro-destra non fa nulla. Con la Casa di Libertà, con il centro-destra, la città appunto si ha in mano a chi non si comporta correttamente. Perché Verona servono gli anziani appunto. Si può stare fermi per altri 5 anni, si può ingessare la città, pericolose per le macchine, pericolose per i ciclisti, pericolose per i pedoni. Coraggio, la forza e la decisione. Una città ferma, strada dove una volta si circolava, adesso non si circolano più. E quindi concludo con quello che può sembrare banale.